No, dai! Scoppiettante! Sempre pronto all'azione! Maestro di savoir-faire! Versatile! Ricco! Originale! Raffinato! Anzi, stiloso! Per i 60 anni di un genio, a volte incompreso, Rete4 omaggia una voce unica al mondo! La nostra voce! 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 Grazie Andrea! Auguri Andrea! Auguri auguri auguri! Auguri! Tanti auguri! Grazie Andrea, buon compleanno! Grazie Andrea! Buon compleanno! Auguri Andre! Tanti auguri! Grazie Andrea! Questo è quello che fate voi! Buon compleanno! Buon compleanno! Bravissimo! Auguri! Buon compleanno, 60 anni. Ovviamente questa cosa resta tra noi. Lo dico un po' di volte. Guarda il campo. Io sono imbalanzatissima. Va bene qua? Sì, un po' leggiamo. Siamo a posto. Siamo a posto. Mi ganta. È bella invece.